Buongiorno, mi trovo a Brembate, in provincia di Bergamo, esattamente sono alla ditta Doringel. Buongiorno, la nostra azienda ha scelto i prodotti Allegrini per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e l'efficacia dei suoi articoli, nonché per la fiducia da sempre accordata in questa persona, il signor Sozzogni, che da sempre ci ha consigliato ottimamente. Quindi io sto con Allegrini.